Pensate che nel 2003, quando si è verificato il famoso incidente che ha coinvolto il Paese, che ha messo al buio l'Italia, ahimè, ci furono 20 minuti di tempo in cui i due gestori di rete poterono scambiarsi informazioni, cercare di capire cosa succedeva, non l'hanno capito, non voglio entrare nel merito, forse uno parlava tedesco, l'altro ciociaro, è difficile in quelle condizioni alle tre di notte cercare di capire, forse 20 minuti, ci vogliono ore, però avevano 20 minuti prima che si scatenasse una perturbazione irreversibile. Oggi lavoriamo sui millisecondi, è cascata una linea in Svizzera, uno degli accidenti che capiscono normalmente, 1000 megavatt vanno giù, in automatico il sistema capisce cosa succede, in millisecondi decide quali carichi interrompere, agisce sull'interrompibilità e salva il Paese da un effetto domino. Succede, è successo 4-5 volte quest'anno, sono i nuovi sistemi. Ecco che si agisce nell'ambito dei millisecondi e ci spostiamo lì, le nuove risorse, a cui accennava anche il dottor Ferrari se stamattina, scusate, le nuove risorse, la fast reserve, devo agire in millisecondi e ho bisogno di nuove risorse. Io considero il pompaggio la Rolls-Royce degli impianti, è come, usate, i miei amici elettrici non mi considerino blasfemo, il pompaggio è un po' come il maiale, non si butta via niente, no? È lo stesso, è il pompaggio, va bene per tutto, reagisce in frequenza, in tensione, dà potenza attiva, reattiva, ingrasale, scende, fa tutto quello, però lo fa con i tempi, è un buon vecchio compagno di viaggio. Una batteria di accumulo fatta per reagire in millisecondi è la formula 1 dei servizi. E le esploreremo, d'accordo con il regolatore, arriveremo a esplorare queste risorse. Quindi uso delle risorse e introduzione di nuove risorse. Ed ecco qua la tavola che abbiamo cominciato a introdurre, non dice, caspita, che lavoro è qua, che diventiamo pazzi? No, quando si parla di flessibilità, se ne parla tanto in tutti i convegni, in ogni modo bisogna essere flessibili, il modo per reagire, per la penetrazione dei rinnovabili, essere flessibili. Ma che vuol dire? Quando si parla di qualità significa regolare la frequenza e la tensione. Dico di più, l'energia, che è un prodotto stupido, se volete, elettrica, dico, in odore, in colore, in sapore, questa energia ha due parametri semplici, che la contraddistinguono, la frequenza e la tensione, se vogliamo semplificare, devono essere costanti tutti e due. Se sono costanti ho un prodotto perfetto. Ecco qua, io devo avere un prodotto perfetto. Frequenza e tensione costanti. Allora, se guardo la tavola a sinistra, quella matrice, quella è la matrice della frequenza. Vedete, sulle righe ho il servizio che voglio, sulle colonne la risorsa è in grado di offrirmelo. Un tempo avevo solo la colonna del termoelettrico e dell'idroelettrico. E vedete il termoelettrico quanti servizi offriva? Tutti, tranne la fast reserve, che neanche l'idroelettrico offre, perché solo il tempo di aprire la valvola, fast reserve se n'è già andata. Offrirà una reserve, non una fast reserve. Però mi è utile la batteria, vedete? Ultima colonna. In altre parole, la transizione energetica vuol dire shift di risorse, vuol dire utilizzare molte più risorse, in un modo molto più complesso. E qui ci aiuterà la digitalizzazione. Ecco a cosa serve la digitalizzazione, fra le altre cose. Serve a sostituire un comportamento umano che non sarebbe utile, perché sarebbe troppo lento rispetto all'accadimento dei fenomeni. E all'uso di risorse, decidere quale risorsa uso, quando, come, per quale motivo. Ecco la matrice delle risorse. Ed è quello che intendiamo per flessibilità. Quindi quando qualcuno mi parla di flessibilità, dico, scusa, intendevi questo? Navighiamo insieme nella matrice. Vediamo quale risorse ci servono, che ovviamente variano in Italia, da regione a regione, da punto a punto, dal contesto delle altre risorse. E abbiamo fatto, anche con il regolatore, non lo dico per piageria nei confronti del Presidente che è qua, ma lo dico con un certo orgoglio di Paese, abbiamo fatto molto per recuperare, anche rispetto agli altri Paesi europei, un gap che adesso io non vedo più. L'uso aggregato delle piccole risorse per fornire servizi che un tempo erano forniti dalle grandi. Questo, sono fuori tempo, adesso lo recupero. Questo per noi è un punto chiave, è il punto di svolta, è il punto che una volta compreso ci permetterà di andare avanti. Quindi il messaggio positivo che vi voglio dare è che partiamo, stiamo in una situazione complessa, l'adeguatezza non ci piace, ci preoccupa molto, dobbiamo andare lontano, abbiamo le menti, le capacità, lo skill, l'aiuto, le istituzioni per poterlo fare e ce la possiamo fare. Questo è il messaggio positivo che noi, pur nella complessità, vogliamo darvi. Gli accumuli, salto questa, ne ha già parlato Marchisio, salto questa tavola perché non voglio tediarvi, vi faccio invece vedere questa, perché spesso mi dicono ma caspita, ma il pompaggio viene usato poco, sa colpa è l'operatore che lo possiede, non faccio nomi ovviamente perché la pubblicità non è ammessa, l'operatore che lo possiede lo usa poco, dico no, non è così, non è così, il pompaggio è confinato al nord, Terno lo può usare quando vuole perché il pompaggio offre sul mercato dei servizi, fa continuamente offerte, posso chiamarlo continuamente a salire e a scendere, ma si chiama poco. Nel passato, nel 2010, è passato non tanto lontano ma vedete, lo spread di prezzo era importante fra ore off-pick e ore-pick, se è maggiore di 1,4, magico numero, dove verrà 1,4? 70% il rendimento, 1 diviso 0,7, 1,4, se è maggiore di 1,4, eccolo là, io ho la convenienza a vendere un prodotto che ho comprato 1,4 volte di costo meno e lo faccio e l'operatore che gestisce il pompaggio non ha bisogno, il mercato che glielo fa fare, oggi il mercato non glielo fa più fare, gli spread si sono schiacciati, sono state le stesse rinnovabili a schiacciare, vedete, l'effetto rinnovabili quanto vanno capite dentro, in fondo, schiacciano, perché hanno priorità di spacciamento, gli infianti che non riescono più a marginare i prezzi, fra notte e giorno si schiacciano, il pompaggio in quelle condizioni è inibito, nessun operatore privato, nessun investitore, nessuno è in grado di manipolarlo, di lavorarci, perché non funziona, però può offrire servizi, ma allora perché non li stai usando? Perché a nord ce n'è meno bisogno, perché c'è meno rinnovabile, perché l'innovabile è fortemente concentrato al sud, perché è lì che abbiamo detto e vogliamo 6.000 megawatt di nuovi accumuli fra batterie e pompaggi e vedrete e noi abbiamo già fatto le simulazioni che con il PNEC, quindi con quei 40.000 megawatt di cui si parlava stamattina, 30.000 di solare, 10.000 di eolico in più rispetto a quegli attuali, noi stimiamo che il pompaggio lavori in pompa, cioè in consumo, il doppio delle ore di oggi, già quello del nord oltre a quello del sud e in futuro eccoci qua alla famosa tavola che poi mi porta alle considerazioni della gaussiana grigia di Marchisio, in futuro sarà così evidente la forza del solare nelle ore centrali della giornata che schiaccerà totalmente i prezzi rendendoli negativi e sarà comodo, il segnale di prezzo a quel punto lì verrà da solo e pompaggio quindi il lavoro o l'accumulo meglio parla di accumulo in generale su due fronti importanti, riduce la over generation, sapete l'over generation è l'energia del rinnovabile che altrimenti andrebbe persa se non viene sfruttato perché sarei costretto a un cartellement del rinnovabile se non riesco a immagazzinarla o a sbottigliarla, riduce la over generation, l'Italia è ai primi posti per over generation, questo non lo dice mai nessuno, 1.5% solo di over generation, in Cina 35%, c'è molto installato, molto installato, ma poca possibilità di ridurre l'over generation perché molti, molti impianti termoelettrici sono collegati al teleriscaldamento, al funzionamento dei processi produttivi, eccetera, non sono schiacciabili e quindi non sono sbottigliabili tutte quelle rinnovabili che sono state costruite, almeno non per ora, non per la Cina ci ha abituato a esplorare straordinari, ridurranno il cartellement anche loro, noi siamo su un cartellement bassissimo, lo vogliamo, vogliamo mantenere quel livello di cartellement e quindi col pompaggio e con gli accumuli questo si può fare, vediamo un attimo, eccolo qua, prima di arrivare a questa e dico una cosa torno alla sala controllo che avevo citato all'inizio, cosa ha detto con la Gaussiana Grigia Marchisi, ha detto questo, ha detto guardate che quando arriveremo al 2030, peggio ancora quando arriveremo al 2040, lo dice la Gaussiana, ve la traduco, fra un'ora e l'altra ci sarà uno swing di potenza straordinario, incredibile, tremendo, l'operatore, siamo nella sala controllo di Terna dicembre 2029, e il povero operatore alle 6 del pomeriggio sa che alle 7 avrà bisogno di 10.000 megawatt in più, perché alle 6 il solare chiude la sala cinesca, e a quel punto lì avrà bisogno di 10.000 megawatt in più, e quel signore, se non vogliamo che si suicidi alle 5, dobbiamo metterlo in condizione di avere le risorse giuste, l'accumulo è la risorsa giusta, altri impianti, i pickers, sono la risorsa giusta, ne ho parlato poco, ma capite che anche il picker a gas ha un suo ruolo, ed è un altro paradigma che cambia, business plan a 6.000 ore non valgono più, business plan, le ore contano molto poco, conta esserci nei momenti critici. Infine, questa credo sia l'ultima tavola, ma comunque le altre non le salto, questa è importante, e ne voglio citare, l'adeguatezza, è uno dei nostri, sono partito parlando di adeguatezza, chiudo parlando di adeguatezza, l'adeguatezza è un tema che noi, è un tema cruciale oggi, oggi, nel 2030, nel 2020, oggi, la stiamo perdendo, e per, e in più, vogliamo, abbiamo l'ambizione di chiudere 8.000 megawatt di carbone, se vogliamo risolvere questo, dobbiamo agire secondo una roadmap coordinata di interventi, sfruttando uno dei cluster che erano stati citati, che erano su cui non sono ritornato, quello dei contratti lungo termine, capacity è uno degli strumenti, probabilmente non è l'unico, in Italia abbiamo scelto il capacity come strumento che può stimolare nuova capacità, per fare tre cose, nuova capacità, sostituzione di quella poco efficiente, sostituzione degli impianti inquinanti come olio e carbone, se non facciamo niente, andiamo a 49, beh, qualcuno dice, 40, non ti bastano 49, sei tranquillo, guardate che succede, tavola accanto, si legge poco, ve la dico al voce, simulazioni freschissime, le trovate sul nostro sito, pubblicate il 9 agosto di quest'anno, l'adeguatezza del sistema paese, l'adeguatezza è considerata tale, quindi raggiunta, se è nei limiti del target europeo, l'ole uguale a tre ore, loss of load expectation uguale a tre ore, vuol dire, non ammetto, per il cittadino italiano di cui all'inizio più di tre ore di mancanza di energia all'anno, quella livello lì diventa dieci volte più alto, trenta ore all'anno, se perdo già pochi gigawatt, se arrivo a 49 gigawatt, il l'ole diventa dalle cittadino, diventa 30, è inaccettabile, è impossibile, è irrecuperabile, è un sistema che non funziona, non riusciamo a vederlo, ci mandano a casa prima, non riusciamo a vedere il 49, lo possiamo solo simulare, allora dobbiamo intervenire, e interveniamo iniettando gas dove e quanto serve, e diciamo 5.4, oggi un giornalista mi ha detto, ma che 5.4, lei aveva detto 3, adesso si è inventato 5.4, no, è sempre 3, perché 3 è la quantità di gas che noi riteniamo indispensabile per fare il phase-out carbone a parità di domanda, un altro 1000 megawatt di gas saranno necessari per chiudere anche l'olio, vorrete mica che rimanga acceso l'olio, se si chiude il gas, allora si chiuderà anche l'olio, un altro 1000 megawatt di gas servono per compensare la crescita di domanda che nel frattempo avverrà se il GDP è quello che noi immaginiamo che sia, quindi la ricetta per avere il phase-out carbone infine è questa, come vedete, non a caso è stata fatta questa chart così, azioni parallele, ho bisogno di un po' di gas, in misura stechiometrica, non tanto, poco, dove serve, e sicuramente in misura minore del carbone che chiudo, ho bisogno di fare il rinnovabile, perché non l'ho detto ma lo voglio dire adesso, il rinnovabile non ci crea solo difficoltà, ci dà anche una grande mano e vogliamo che il rinnovabile faccia energia, anzi, io personalmente vorrei che facesse energia e che le altre risorse pensino ai servizi, il mio mondo ideale è un mondo in cui il rinnovabile fa energia e le altre risorse fanno servizi. I consumi, ne ho parlato poco, me ne dolgo ma il tempo è già scaduto per me e non voglio andare oltre, i consumi, ma l'ho detto prima quando dicevamo che con le Uvam che il regolatore ci ha permesso di fare aggreghiamo risorse miste e ci sono i consumi, i consumi possono con la loro flessibilità dare anche loro una grande mano e lo storage, l'ho citato più volte, è l'altro elemento fondamentale, questi sono 3.000, siamo al 2025, poi bisogna fare il secondo salto fino al 2030. Buon lavoro a tutti, grazie.